buongiorno a tutti con questo video tutorial andremo a vedere come compilare la domanda di trasferimento di mobilità avendo come precedenza il rientro dalla scuola di precedente titolarità per cui si era fatta domanda di mobilità condizionata dunque il docente titolare in nuova scuola chiede rientro nella scuola di precedente titolarità allora una volta compilata l'anzianità del servizio come abbiamo già visto in precedenza e quindi brevemente andiamo a riepilogare che per esempio si mettono tutti gli anni di ruolo nella prima casella dell'attuale titolarità con decorrenza dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo per esempio nel nostro caso nel mio caso 14 anni dopo aver fatto anche la richiesta della continuità del servizio nella casella appunto numero 4 dove si indicano tutti gli anni di anzianità continuativa nella scuola di titolarità mai interrotta senza soluzione continuità per esempio 10 andiamo una volta diciamo così stabilita questa sezione è individuata questa sezione e per cui andiamo a indicare a chiudere l'anzianità del servizio e tenendo conto che per esempio dobbiamo sicuramente scegliere il tipo di posto per cui andiamo a concorrere per esempio posto normale con priorità senza subordine e dunque andiamo a vedere nella casella nella sezione precedente l'istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché individuato come soprannumerario e dunque ho trasferito l'ufficio o trasferito per domanda condizionata allora si indica chiaramente la provincia di titolarità si indica e per esempio nel caso mio e reggio calabria poi si indica la scuola da cui si è stati individuati docenti sovrannumerari per esempio nel caso specifico si va a indicare a cercare la scuola di titolarità ricordiamo nel caso specifico mio la mia scuola di titolarità è il liceo scientifico leonardo da vinci faccio conferma e quindi devo anche dire da che tipo di posto sono stato individuato sovrannumerario per esempio il tipo di posto comune e a questo punto la domanda con precedenza per la mobilità e diciamo così in indicata con questa precedenza qui è chiaro del tutto evidente che nelle preferenze si deve indicare come preferenza primaria principale la prima delle preferenze che si vanno a indicare proprio quella della scuola di ex titolarità dunque si sceglie la regione calabria la provincia di reggio calabria quindi si fa conferma e tra le scuole che è dunque la possibilità di ricercare le scuole mettiamo il liceo scientifico leonardo da vinci ci si fa la ricerca e automaticamente noteremo che nel comune reggio calabria ci sarà da poter inserire come preferenza proprio la preferenza del liceo leonardo da vinci in modo tale da ottenere così il rientro nella scuola di precedente titolarità come priorità è chiaro che si possono anche inserire preferenze aggiuntive diverse dal leonardo da vinci per muoversi con volontarietà anche in altra scuola speriamo che questo video sia utile a tutti i nostri telespettatori seguiteci perché daremo altri video tutorial per la mobilità 2023 2024 arrivederci a tutti ciao 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 ciao